Parliamo adesso di come si fa a superare l'ansia approccio, il nemico numero uno di quando si va a essere, di quando effettivamente si vuole conoscere nuove ragazze, il nemico che ti impedisce poi di conoscere quella che sarà la tua futura fidanzata, la tua futura moglie, c'è questo muro in mezzo e se non viene sorpassato, è proprio disintegrato, rimani tagliato fuori dalla vita sentimentale e sessuale. Quindi quello che vedremo in questa lezione sarà appunto il come superare l'ansia approccio, se magari mi segui già da un po' di tempo, però questo corso sarà comprato anche da persone magari totalmente nuove, quello che io promuovo, insegno è come si rimuove l'ansia approccio, che è una cosa totalmente diversa da superarla, il superare l'ansia approccio semplicemente si ti fa fare l'azione sul momento ma l'ansia approccio poi non scompare, questo è quello che vedremo in questa lezione, quello che insegno poi in corsi più completi, per esempio l'approccio alla che hanno detto è, dove si entra molto più in profondità riguardo a quello che è l'ansia approccio, lì si insegna, quello che viene insegnato anche poi in corsia vivo è il come si rimuove l'ansia approccio, ok? Sono due cose totalmente diverse, però la cosa è superarla ovviamente è anche importante ed è assoluto importante per fare i primi passi, quindi con i consigli che avrai in questa lezione sarai comunque in grado di approcciare, però non è la soluzione definitiva per il lungo termine, ok? Per il lungo termine devi imparare come si rimuove definitivamente l'ansia approccio, perché se non sei tra porti dietro per sempre devi sempre continuare ad approcciare, appianti fermi un attimo per qualche giorno, per una settimana, per un mese e torni di nuovo indietro e hai di nuovo l'ansia approccio, semplicemente perché non l'hai mai rimossa, l'hai semplicemente superata lì sul momento ma non hai mai fatto effettivamente un lavoro profondo per andare a rimuoverla definitivamente. Quindi quello che consiglio è riascoltare questa lezione qualche volta, quindi non soltanto una volta, perché per fare in modo che questi concetti, questi modi di pensare appunto entri nella tua testa è necessario una ripetizione, quindi sentirli qualche volta, quindi non ascoltare questa lezione soltanto una volta, perché se ascolti soltanto una volta ti entra in testa il 5%, ok? Quindi va risentita più volte e soprattutto esci, ok? Io sono sempre scioccato, la persona che magari mi dica, ah ho riascoltato la lezione tantissime volte, ho ancora l'ansia approccio, ma sei mai uscito ad approcciare? Eh no, non sono ancora uscito, e se non esci anche ad approcciare e provare a metterti in situazioni dove sei davvero dal vivo con la ragazza, non te togli mai l'ansia approccio, quindi sì, ok, risentirti qualche volta in più questa lezione, ma poi devi anche uscire ad approcciare e non ti abbattere, non mollare se non riesci ad approcciare fin da subito, ok? Se ci riesci benissimo, quindi perché poi la cosa che ho visto nel corso degli anni è che alcuni studenti hanno capito che devono farlo apposta, a non riuscire ad approcciare, che è una cosa assurda che io posso spiegarle in maniera perfetta le cose, ma poi tanto c'è sempre chi fraintende, quindi se riesci ad approcciare fin da subito benissimo, se non ci riesci non ti abbattere, riprova, continua a uscire, rimani nella serata, duella con te stesso, continua a provare e vedrai che dopo un po' ci riuscirai, è la storia di tutti, ok? Se ti fai in giro sulle mie live su YouTube vedrai sempre che c'è gente che dice ah non riesco ad approcciare, ah che cazzo faccio, allora si approccio, eccetera, e poi ti guardi le live dopo e vedi le stesse persone e dicono ah adesso cazzo stavolta sono riuscito quasi ad approcciare ma non ce l'ho fatta, poi la live ancora dopo dicono ah cazzo stavolta sono riuscito a fare un approccio, poi la volta dopo dicono ah non sono ancora riuscito ad approcciare, poi la volta dopo dicono ah cazzo stavolta adesso ho fatto 5 approcci, e poi li vedi da live a live su YouTube che mi aggiornano le persone sul fatto che adesso riescono ad approcciare. Cioè è una storia che è ridicola, cioè se guardi le live su YouTube, se guardi le live chat, c'è sempre questo tipo di situazione di progresso, quindi non ti abbattere se non riesci ad approcciare subito, continua a uscire. Quindi iniziamo a vedere un po' di modi di pensare che appunto nel momento in cui vai a sostituire i modi di pensare con modi appunto di pensare più positivi e più performanti, i modi di pensare producono nuove azioni, ok? E nuove azioni producono nuovi risultati, ok? Quindi primo consiglio di mentalità è persa per persa vai lo stesso, ok? Quindi quando una ragazza ti passa davanti in discoteca, c'è una ragazza che vorresti approcciare, è persa per persa, cioè vai lo stesso. Quindi perché se non ci vai, l'hai persa. Se ci vai ti rifiuta, l'hai persa lo stesso. Cioè quindi hai soltanto da guadagnarci. Quindi persa per persa vai lo stesso. Consiglio magari di scegliersene uno di tutti quanti questi modi di pensare e cercare di detenersi la mente il più possibile quando si è in discoteca. Perché per ricordarsi di tutti quanti questi modi di pensare è infattibile. Ce li avrai automaticamente in testa quando li ascolti tante volte. Quindi non dovrai pensarci attivamente. Però in fase iniziale, quando sono le prime volte che senti questi contenuti, sceglitene uno e cerca di pensarci il più possibile quando sei in discoteca e in modo da fare effettivamente l'azione. Poi, focalizzati sull'essere riscaldato per essere pronto per quando approccerai quella giusta. Quindi questa cosa rimuove il focus dalla paura del rifiuto. Cosa vuol dire questa cosa? Non focalizzarti sul fatto che adesso vado lì, siccome mi devo riscaldare, questa qua mi rifiuterà, che cazzo. Non focalizzarti su quello. Focalizzati sul riscaldarti per essere pronto per poi durante quando la serata approccerai quella giusta, che non significa che sarà quella che ti sposerai, però magari sì. Prima o poi capiterà che approccerai quella con cui ti sposerai. Quindi quella con cui, qua mi riferisco per quella giusta, mi riferisco a quella con cui potresti avere un'interazione molto positiva, quella con cui potresti far sesso, quella con cui potresti baciarti, scambiarti il numero, vederti per un appuntento successiente. Quindi quella con cui potresti fare qualcosa. Però capiterà durante l'arco della serata. Una che ha quella potenzialità, e anche più di una che ha quella potenzialità, ma se non ti sei riscaldato prima, durante la serata, quando poi interagisci con lei, sei ancora in una modalità dove non sei troppo meccanico, perché non ti sei riscaldato e te la perdi, ti bruci un'occasione. Quindi non focalizzarti sul fatto che adesso vado lì e mi vengo rifiutato, focalizzati sull'essere riscaldato per poi essere pronto per dopo, per quando approcci quella giusta. Poi, altro consiglio è do it for the reference. Cosa vuol dire questa cosa? È in inglese. E vuol dire fallo per fare esperienza. Uno dei formatori americani da cui seguivo 2015, 2016, 2017, riguardo appunto la seduzione, che diceva sempre in tutti i video do it for the reference, quindi fallo per fare esperienza, fallo per fare esperienza, ed era diventato un meme questa cosa qui. E tipo quando ero in giro con magari dei miei amici, che eravamo in giro da approcciare, magari passava una ragazza, e entrambi l'abbiamo vista, però magari facevamo finta e niente, perché non avevamo voglia di andarci, o perché ci facevamo le scuse. Però siccome c'era questo meme qui del do it for the reference, tipo ci guardavamo, e uno dei due diceva do it for the reference, e quindi qualcuno dei due poi andava. Quindi cosa vuol dire questa cosa? Oltre appunto a questo caso era anche una cosa che ci divertiva, questo tipo di mentalità o di frase, però è anche una cosa importante a capire, ovvero il fallo per fare esperienza. Nel momento in cui ti tagli fuori esperienza e non diventerai mai esperto, rimarrai sempre un principiante che ogni tanto scoprerà per caso, una volta ogni 5 anni, ogni 10 anni, o quello che è, finisci poi in una relazione con una ragazza che non ti piace, di cui non sei soddisfatto, ti condanni a una vita infelice o rimani da solo tutta la vita, oppure vai a troia per tutta la vita raccontandoti che sei contento. Quindi fallo per fare esperienza. Ogni esperienza è positiva, a meno che non muori, ok? E di base non muori, quando approcci le ragazze non c'è, la ragazza estrae una pistola e ti spara, ok? Quindi ogni positiva, ogni esperienza è positiva. Un rifiuto può motivarti, una qualsiasi interazione ti può insegnare qualcosa e ogni interazione in realtà ti insegna qualcosa, se hai l'intelligenza per andare a capirlo e non soltanto l'intelligenza, anche le risorse formative a questo corso e altri miei corsi per andare poi effettivamente a saper analizzare le tue esperienze, perché se appunto non ti sei formato, non sai poi come analizzare le tue esperienze e non sai riconoscere gli errori per appunto poi correggerli e non rifarli più e di conseguenza poi ottenere risultati con le ragazze successive. Quindi quando sei in dubbio, se vado o non vado, tu vai, ok? Nel dubbio vai. È sempre meglio fare l'esperienza che non farla. Poi quando sarai mega iper esperto ti potrei anche dire, ok, questa qua non ci vado ad approcciarla perché tanto ho già esperienza, vedo già da fuori che è una situazione che non ha senso perché l'ho già visto tante altre volte in situazioni simili, ok, va bene. Ma quando sei esperto, ok? Ma anche quando sei esperto, tante volte, io tante volte mi dico lo stesso ah, facciamo per fare esperienza, ok? Magari non in una situazione in discoteca, magari in un appuntento o anche se è una ragazza, magari so già che non è una ragazza che ci vorranno magari più appuntenti per arrivare al sesso, che è una ragazza con poca esperienza, lo so già, che è un appuntento che tanto non ha senso, che non si scoprerà in quel appuntento, però mi dico, ma non si sa mai. Lo faccio per fare esperienza, quindi, però soprattutto se sei principiante, porca troia, farlo per fare esperienza per il fatto che l'hai approcciata non significa che devi per forza chiederle il numero per il fatto che l'hai preso il numero non significa che devi per forza invitarla a uscire però qua stiamo divagando, ok? Quindi farlo per fare esperienza poi un'altra cosa che devi ricordarti, questo è utile per andare a togliere per esempio la paura e il giudizio di altri, è che quando fai qualcosa di imbarazzante in pubblico o meglio, che tu percepisci che è imbarazzante, ma non c'è, la cosa che è oggettivamente imbarazzante l'imbarazzo è soggettivo della persona che sta facendo l'azione ed è soggettivo in base a chi guarda ok, adesso ti spiego, questa cosa però, rimaniamo per adesso sulla terminologia normale quindi quando fai qualcosa di imbarazzante in pubblico, ricordati che tutti quanti si sono dimenticati dopo tre secondi ok, le persone hanno la loro vita e oltretutto sono anche loro in testa che sono spaventati dal giudizio degli altri ok, quindi non sono lì a guardare te, le persone quindi se ti capita, magari non so, sei da qualche parte, stai salendo le scale, fai un mezzo inciampo e dici, oh madonna, mi hanno visto tutti, oh mio Dio, che imbarazzo, che imbarazzo non gli frega niente a nessuno, sì, qualcuno che era dietro di te magari ti ha visto, un attimo e dopo tre secondi si è già dimenticato per chi vive in una città dove c'è la metropolitana io ho vissuto a Milano, prende tutta quanta la mia vita, fino al 2021 e c'è la metro, ci sono i tornelli per entrare nella metro e delle volte, non delle volte anche in uscita, magari bisogna passare il biglietto o la tessera e delle volte, invece delle volte è libero l'uscita e delle volte magari la gente pensa che sia libera l'uscita e invece bisogna passare il biglietto, quindi si vanno lì e si schiantano ok, magari anche lì sul momento, sì, magari qualcuno guarda magari qualcuno ride ma tutti quanti poi dopo tre secondi se ne sono dimenticati e stanno continuando la loro vita non è che poi quando sono al lavoro dicono ma sai che c'era quello lì che si è schiantato in metro con il tornello o quello lì che ha fatto il mezzo inciampo sulle scale o uno che è scivolato per stare non succedono queste cose tutto quanto nella tua testa e devi ricordare a te questa cosa perché poi tu invece continui a pensarci a questa cosa quindi a nessuno gliene frega un cazzo di te che non è un insultarti è semplicemente per farti capire che non sei rilevante ma così come anch'io ci sono troppe cose al mondo ok, la gente non è lì a pensare a te anche se sei più o meno conosciuto non gliene frega niente a nessuno quindi questo ti aiuta per quando approcci in discoteca e magari vieni rifiutato e dici oh madonna mi hanno visto tutti oh mio dio che imbarazzo lì hai continuato avanti alla serata a pensarci dici oh mio dio mi hanno visto tutti non posso approcciarli a altre ragazze è soltanto nella tua testa non esiste questa cosa è soltanto nella tua testa poi un altro modo di pensare è molto utile per andare a superare l'ansia di approccio e fare il passo è pensare e se fosse la prossima ragazza con cui puntini 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 quindi e se fosse la prossima ragazza con cui andrò a letto e se fosse la prossima ragazza con cui uscirò e se fosse la mia prossima fidanzata e se fosse la mia futura moglie e prima o poi capiterà che l'approccerai quindi tutti i giorni ci passano avanti un sacco di occasioni e si creano automaticamente una serie di altre linee temporali dove in questo caso stiamo parlando di discoteca tutte le ragazze che non approcci in discoteca sono poi altre linee temporali parallele dove se tu le avessi approcciate sarebbe successo un qualcosa di diverso magari ci avresti fatto un appuntento magari sarebbe stata la tua fidanzata non lo puoi sapere quindi ricordarsi questa cosa quando prima di fare un approccio quando sei in dubbio e pensare se fosse la prossima ragazza con cui finisco a letto questo dilemma interiore ti crea appunto una leva interiore che ti porta poi a fare l'azione questo è anche uno dei mindset veramente molto molto forti mi ricordo quando delle volte uscivo con un camera a filmare magari filmate a tre cani nascosti di miei approcci lui sapeva di questa mentalità qui e quando magari ero un po' in dubbio se andare o no da una ragazza diceva no non mi convince diceva e se fosse la prossima ragazza ti scopi e qui diceva e ci andavo a fare l'approccio quindi e oltretutto questo lo capisci molto bene nel momento in cui inizi a avere un po' di esperienza ad avere un po' di risultati perché quando effettivamente ottieni dei risultati inizi a far sare secondo le ragazze inizi a trovarti una fidanzata che magari è approcciata in discoteca o di giorno o quello che è e ti inizi a chiedere e se non l'avessi approcciata quel giorno se hai avuto una fidanzata in passato che l'hai approcciata non so in un gruppo di amici o in una situazione in discoteca o di giorno o quel cazzo che è o da Tinder e se non l'avessi approcciata non l'avessi mai conosciuta poiché se sei una tua ex ragazza magari non sei contento di quell'esperienza o magari si non lo so però sta di fatto che non ci sarebbe stata quella parte della tua vita e ogni giorno si creano automaticamente con la non azione con il non fare l'azione si creano automaticamente tutta quanta serie di altre linee temporali dove magari stai vivendo una vita più felice con una certa ragazza che però non l'hai conosciuta perché non ci sei andato faccio un paio di esempi così al volo senza essere troppo lungo e la prima ragazza con cui sono uscito in vita mia approcciata di giorno per strada e mi ricordo era tipo dicembre 2015 e mi ricordo ero ancora in fasi da principiante dopo un ansia approccio eccetera ero vergine ancora e praticamente mi hanno detto ok oggi appena arrivo sul campo in piazza Duomo a Milano mi sono detto appena arrivo sul campo approccio la prima ragazza che vedo e arrivo sul campo esco dalla metro e mi passano avanti due ragazze in due direzioni diverse decido velocemente vado da una e poi è stato effettivamente il mio primo appuntamento in vita mia e se fossi andato all'altra chi lo sa cosa sarebbe successo quindi è un'altra ragazza con cui poi ho avuto una reazione nel 2021 poi mi sono trasferito via da Milano nel 2021 quindi poi è finita per questo motivo e praticamente l'avevo approcciata durante un corso al vivo come dimostrazione a uno studente e praticamente poi questa ragazza qua l'avevo vista prima che era ferma in un certo punto però ero con lo studente quindi quando facevo i corsi al vivo adesso io non tengo più personalmente i corsi al vivo però quando tenevo i corsi al vivo cioè di base e anche poi il coach ufficiale cioè sono con lo studente ok poi se lo studente vuole vedere una dimostrazione ok il coach si ritaglia il tempo e poi fa la dimostrazione però se no il tempo è dedicato al 200% allo studente quindi però c'era questa ragazza qua che era figa che era lì ferma e ha detto cazzo se non fossi nel corso al vivo ci andrei a parlarle e però non ci sono andato perché ero nel corso al vivo poi dopo tipo 10 minuti lo studente ha voluto vedere una dimostrazione di un approccio quindi di un approccio mio e la casualità ha voluto che ho ribeccato quella ragazza lì che stava passeggiando e ha detto cazzo questa è quella di prima e ci sono andato a parlare poi l'ho portata in un appuntamento istantaneo e ci sono rimasto giusto un 20 minuti una mezz'ora perché poi dovevo tornare dal studente il studente con cui mi ha seguito era lì che mi guardava e si seguiva tutta quanta interazione con il microfono quindi ascoltava anche quello che dicevo e io gli mandavo messaggi al studente dicevo vuoi che rimango con la ragazza e continui a guardare vuoi che torniamo al corso al vivo quindi sono rimasto a fine una mezz'ora con questa qui e niente poi ci ho fatto sesso in realtà il giorno dopo potevo farci sesso direttamente lì però ero in corso al vivo quindi ci ho fatto sesso quel giorno dopo e poi è stata effettivamente una ragazza con cui ho avuto una relazione e se non ci fossi andato a parlarle anche la ragazza con cui sono attualmente stessa cosa stesso scenario e praticamente era una sessione di approcci di giorno qua a Dubai è una delle prime volte che sono riuscito ad approcciare qua a Dubai e praticamente anzi no era proprio la primissima volta che sono riuscito ad approcciare qua a Dubai di giorno e mi avevo dato con obiettivo di fare un 5 approcci semplicemente per tastare un attimo il terreno per vedere se effettivamente era fattibile o no perché ero in una città nuova e mi ero appena trasferito qui e quindi mi avevo dato come obiettivo fare 5 approcci li avevo fatti e stavo andando via stavo andando a casa però mi ero riscaldato era passata questa ragazza qua che poi è adesso la mia ragazza da più di un anno e però stavo andando via ero proprio quasi sull'uscita del centro commerciale e però mi sono detto cazzo l'avevo vista e mi sono detto cazzo è un peccato spercare il fatto che mi sono già riscaldato e quindi ho detto facciamo questo approccio qua e ci sono ancora insieme con questa ragazza è passato praticamente un anno e quasi un anno e mezzo in circa un anno e mezzo e se non ci fossi andato da quella ragazza lì vediamo anche un altro twist mentale sempre collegato a questo discorso per chi ha come obiettivo lo sposarsi farsi una famiglia avere dei figli eccetera tu non approcciando una ragazza facendo differenze dall'ansia approccio tu stai uccidendo i tuoi futuri figli è esattamente così se tu non approcci la ragazza ti fai fermare dall'ansia approccio e prima poi capiterà che approcciarai quella con cui poi spenderai il resto della tua vita e se hai come obiettivo avere dei figli tu stai uccidendo i tuoi figli ok quindi poi quando sarai sposato avrai dei figli ricordati di questa lezione qua e gli dirai ai tuoi figli oh ma sapete che un giorno una volta avete rischiato di non nascere perché continuiamo a farmi frenare dall'ansia approccio ok quindi se non approcci stai uccidendo i tuoi figli quindi magari ti ripeto ce ne sono tanti di twist mentali che stiamo vedendo in questa lezione non puoi tenerti in mente tutti risentiti diverse volte questa lezione però scegitene uno cerca di tenerti in mente poi durante le serate che fai in discoteca adesso invece entriamo un po' più nello specifico riguardo alla paura del rifiuto che comunque è sempre collegato all'ansia approccio le due macro cause dell'ansia approccio sono la paura del rifiuto e la paura del giudizio agli altri quindi adesso facciamo un attimo uno zoom dentro quella che è effettivamente la paura del rifiuto quindi innanzitutto ricordarsi che hai bisogno anche di essere rifiutato se vuoi aver successo e cresce così con le donne così come in tutti quanti gli ambiti di vita più tu dici ah non voglio essere rifiutato più allo stesso tempo stai anche dicendo che non vuoi aver successo ok ricordati che lo vedremo adesso tra poco con anche degli esempi che il fallimento non è l'opposto del riuscire è parte del riuscire ok quindi devi riuscire a switchare la percezione dell'errore come una cosa positiva l'errore non è una cosa negativa l'errore è negativo se non ti autoanalizzi e non ti correggi ma se no l'errore è vitale non esiste che inizi a fare un qualcosa e la sai già fare devi passare tramite gli errori correggi impari aggiusti il tiro e poi a un certo punto non fai più errori poi sulla questione di approcci è impossibile avere una percentuale di riuscita del 100% però poi avere una percentuale di riuscita di molto molto alta o quantomeno le ragazze ti rifiutano istantaneamente in apertura se sei esperto dovrebbero essere il 5-10% ok quindi però che non significa che allora il restante 90% allora te le scopi ok però puoi arrivare comunque a percentuali molto alte di ragazze che approcci e ragazze poi ti scopi quindi ricordati che hai bisogno di essere anche rifiutato se vuoi fare successo e crescere quindi come accennavo prima impara a vedere anche il valore nei rifiuti da un rifiuto puoi ottenere per esempio delle idee per per esempio magari innovare per aggiustare un qualcosa per cambiare un modo di fare un qualcosa che fai è un non so un rifiuto una situazione che va male ti insegna non so è una batosta che ti insegna poi effettivamente una lezione importante di vita o non so una lezione importante in termini di interazione uomo-donna per esempio ancora quando vivevo a Milano la location per fare gli appuntenti che ho utilizzato poi per un sacco di anni che era una location per chi non lo sa le location per quando si fanno gli appuntenti sono vitali se vai in una location a caso che non facilita il contatto fisico dove non c'è privacy dove non c'è la giusta atmosfera che eccetera ci sono vari requisiti per una location puoi essere bravo quanto vuoi ma se hai una location che fa schifo non farai sesso con le ragazze quindi qua parlo di appuntento e la location migliore che ho utilizzato poi per un sacco di anni a Milano è nata dal fatto che un appuntento era andato malissimo o meglio praticamente una ragazza che era una strafiga assurda era tipo appena divorziata era abbastanza giovane tipo 27 anni e aveva divorziato da poco mi diceva che tipo le mancava il sesso si masturbava sotto la doccia eccetera questo me l'ha detto nell'interazione iniziale avevamo fatto un piccolo appuntamento istantaneo e ci siamo rivisti poi qualche giorno dopo lei stava in Svizzera è venuta dalla Svizzera fino a Milano ha guidato dalla Svizzera fino a Milano per fare l'appuntamento con me una sera solo che era il 6 gennaio non mi ricordo di che anno e era siccome era l'epifania era quasi tutto quanto chiuso il posto dove volevo andare per l'appuntamento che era il mio posto solito che funzionava e era chiuso e quindi ho preso quest'incolata qui e quindi siamo finiti poi in una location che era sbagliata seduti frontali e se vi sedete frontali non si può fare contatto fisico non ho contatto fisico non bacio non bacio non sesso e questa bacia sarebbe stata facilissima sarebbe stata una scopata cioè veramente anche probabilmente anche molto di alta qualità e totalmente bruciata per questo motivo qui e quel giorno lì ero così incazzato che ho detto adesso era tipo mezzanotte una roba del genere quando ci siamo separati e quindi senza assolutamente fare niente quindi no bacio e no sesso e ho detto adesso non vado a casa finché non trovo una cazzo di location un lounge bar che è aperto adesso a mezzanotte alle 11 o quel cazzo che era e lì ho trovato effettivamente quello che era un lounge bar che non sto a dire adesso qua qual è era un lounge bar che era aperto anche fino a luna di notte era perfetto c'era un sacco di divani atmosfera serale location perfetta e poi utilizzato per un sacco di anni dove veramente mi ha procurato un sacco di scopate di appuntenti che ho fatto lì ma tutto quanto è nato da un rifiuto che è una situazione andata male quindi i rifiuti ti danno poi anche idee per innovare semplicemente un esempio questo ok un rifiuto può anche per esempio motivarti ok quindi inizialmente ci può anche stare che dei rifiuti ti buttino giù però lì effettivamente andare a lavorare sull'ansia approccio andare effettivamente a capire come si rimuove definitivamente l'ansia approccio in modo che non sei infettato negativamente da un rifiuto ma nel momento in cui non ti abbatti per i rifiuti i rifiuti ti possono addirittura motivare e sei poi più energico e coinvolgente con le ragazze successive quindi all'interno di una stessa serata parlo vediamo adesso invece un po' di esempi reali di persone di successo nei loro ambiti persone famose e ti do un po' le loro statistiche delle loro cose che hanno fatto nella loro carriera per farti capire che il concetto di sottofondo è che devi capire che il fallimento non è l'opposto del successo il fallimento il rifiuto è parte del riuscire è parte del successo ok come ti ho detto più eviti l'essere rifiutato più non avrai mai risultati quindi Michael Jordan che è uno forse non anche il giocatore di palacanestro forse più famoso e bravo della storia non lo so però molto famoso e nelle statistiche della sua carriera sono cose che ha detto molto spesso che in tutta quanta la sua carriera ha mancato oltre 900 tiri a canestro ha perso oltre 300 partite durante la sua carriera 26 volte i suoi compagni gli hanno fidato il tiro finale decisivo e lui l'ha sbagliato facendo perdere la partita ed ecco perché è il giocatore migliore della storia di palacanestro e qua chi non conosce le dinamiche del successo le dinamiche del successo sono molto simili in quasi tutti quanti gli ambiti le macro dinamiche sono sempre quelle quindi uno che non conosce le dinamiche del successo dice ma come è possibile che sbagli così tante volte fallisci così tante volte e sei il giocatore di palacanestro più famoso e bravo della storia e si perché oltre a sbagliare tutte queste volte ce ne sono poi una sbordellata in più di successi di tiri canestro riusciti di partite vinte adesso non so quella statistica puoi andarti a cercare anche per conto tuo ma sicuramente ha mancato 900 tiri canestro ma di sicuro ne avrà messi a segno molto più di 900 di tiri canestro avrà vinto di sicuro ben più di 300 partite non lo so potrebbero essere anche di meno non lo so però il concetto è non focalizzarti sul non perdere focalizzati sul vincere non focalizzarti sul non essere rifiutato focalizzati sul vincere quindi i giocatori di baseball in America i giocatori di baseball più pagati al mondo pagati non so quanto però milioni all'anno forse anche decine se non addirittura centina beh non penso centinaia di milioni all'anno però magari decine di milioni all'anno e magari puoi mettere in pausa il video e provare a indovinare secondo te su 10 non so se sai come funziona il baseball non so come si gioca a baseball però ti lanciano una palla di colpirla con la mazza con il baseball quindi secondo te su 10 palle che gli vengono lanciate ai giocatori migliori al mondo quante ne colpiscono? metti in pausa il video e prova a indovinare adesso te lo dico quindi la media dei giocatori di maggior successo al mondo è del 35% si chiama media di battuta del 35% quindi significa che il 65% delle volte la sbagliano e sono quelli migliori al mondo poi quelli magari che di più basso livello ma che comunque giocano magari in categorie alte poi non so quali siano le categorie magari ne prendono 1 su 10 2 su 10 3 su 10 quelli migliori al mondo ne prendono 35% quindi 3 fra le 3 e le 4 su 10 il che significa che le altre 6 barra 7 le sbagliano poi un altro esempio non so se conosci Harland Sanderson che è il fondatore del KFC la catena di ristoranti KFC e lui quando inizialmente tutto quanto è partito da un solo ristorante e quando poi quando ha provato a espandere la catena di KFC ha presentato la ricetta il pollo di KFC a mille e nove altre persone mille e nove persone penso investitori altri ristoratori eccetera per farsi a provare idee e ci sono volute mille e nove persone non so in quanto tempo ma mille e nove persone da contattare fra investitori ristoratori gente altri imprenditori eccetera che dicessero ah sì questa è una buona idea facciamolo facciamo un altro ristorante prima di trovare uno che dicesse va bene apriamo un secondo ristorante mille e nove persone ok quindi pensa se si fosse fermato alla persona mille e otto ok non ci sarebbe la catena di KFC la catena appunto di ristoranti del KFC ok che non so quanto generi in fatturato annuale però penso un bel po pensa se si fosse fermato alla persona mille e otto non avrebbe aperto il secondo ristorante magari sarebbe ancora un ristorantino che fa magari giusto qualche spicciolo al mese e ci sarebbe aperto tutto quanto l'impero del KFC tutto c'è per farti capire che il fallimento non è l'opposto del riuscire è parte del riuscire poi J.K. Rowling non so se la conosci autrice di Harry Potter quindi tutti quanti i vari film di Harry Potter hanno incassato 7,7 miliardi di dollari 7 miliardi e 700 milioni di dollari tu hai idea di quanto sia un miliardo sai quanti zeri ha un miliardo ecco questa è anche una metafora buona adesso non mi ricordo i numeri precisi sai quanto è un milione di secondi un milione di secondi è tipo qualche giorno se non sbaglio sono tipo quattro giorni adesso non mi ricordo nel dettaglio sai quanto è un miliardo di secondi sono in circa vent'anni giusto per farti capire la differenza tra un milione e un miliardo sai quanto è un miliardo di dollari sai quanti sono 7 miliardi di dollari quindi tutti i film di Harry Potter hanno generato 7 miliardi e 700 milioni di dollari ovviamente non è tutto quanto netto per l'autrice però il suo miliardo penso che se lo sia fatto quindi ci sono i libri i libri di Harry Potter e tutti quanti hanno generato questo è un dato se non sbaglio del 2019 o 20 non mi ricordo tutti quanti i libri di Harry Potter hanno generato sono stati venduti per 400 milioni di copie non so quanto costi un libro però 20 euro non so e fai 400 milioni per 20 per 20 euro per 20 British Pound o quel cazzo che è non so quanto faccia però anche qua mi sa che si va sui miliardi credo penso di sì non lo so c'è solo un bel po' di soldi quindi il libro di Harry Potter e anche i film di Harry Potter sono stati tradotti in 69 lingue una bella impresa e qua arriva una parte che fa ridere che ci fa ridere nel senso che è veramente assurda e quando appunto l'autrice ha presentato il libro di Harry Potter alle case editrici per farselo pubblicare 12 case editrici gli hanno detto di no pensa quanto si devono sentire degli idioti queste 12 case editrici ad oggi potevano essere multimilionari miliardari queste case editrici magari lo saranno già non lo so si sono persi un progetto enorme quindi pensa se l'autrice si fosse fatta scoraggiare da e poi non so quanto tempo ci vuole presentare il progetto a una casa editrice non penso sia una roba da due minuti quindi e pensa se si fosse fatta scoraggiare dalle prime 12 case editrici non avrebbe presentato il progetto anche alla tredicesima che ha detto di sì e poi tutto quanto l'impero che ti ho appena scritto il fallimento è parte di riuscire l'essere rifiutato è parte di riuscire ti faccio giusto l'ultimo esempio di persone di questo tipo Walter Disney cofondatore dell'azienda Walt Disney quindi fatturato dell'azienda Walt Disney nel 2021 è di 67 miliardi di dollari te lo ricordi prima quanto è un miliardo? pensa quando sono 67 miliardi quindi veramente sono numeri veramente assurdi questo è in un anno veramente assurdo come cosa nel 1919 quindi più di 100 anni fa in uno dei suoi primi lavori io rido sempre quando leggo queste storie qua perché sono veramente assurde veramente assurde e nel 1919 in uno dei suoi primi lavori Walter Disney lavorava in un giornale è stato licenziato a detta del suo datore di lavoro è stato licenziato per assenza di creatività fondatore di Walt Disney licenziato nel suo primo lavoro per assenza di creatività pensa se si fosse fatto condizionare da questo pensa se avesse creduto a quel datore di lavoro ah no magari non ho creatività magari l'idea che ho di fare l'azienda che poi è diventata la Walt Disney magari questa idea qua non ha senso magari meglio che smetta quindi sii consapevole che i rifiuti fanno parte del gioco non c'è il modo di eliminarli totalmente li puoi ridurre tantissimo imparando come si approccia correttamente lo imparerai in questo corso ma non puoi farti frenare semplicemente da un banalissimo rifiuto ok quindi i rifiuti fanno parte del successo non c'è modo di aver successo se non vieni anche rifiutato mettiti in pace con te stesso appena possibile con questa cosa ricordati che se non spari mai non c'entri mai il bersaglio se non provi mai a tirare in porta non farai mai gol Cristiano Ronaldo Messi giocatori di calcio più famosi di questo non so dell'ultimo non so degli ultimi decenni e magari vatti a cercare autonomamente se ci sono delle loro statistiche dubito fortemente che ogni tiro che prova a fare in porta Cristiano Ronaldo fa gol ok ci sono tante volte dove fa gol ma ci sono anche tante altre volte dove non fa gol e ma se non prova mai a tirare in porta e non può fare gol e poi un'ultima cosa per darti il calcio in culo definitivo di questa lezione ti vado adesso a far venire un po' di mal di pancia un mal di pancia positivo che ti farà fare poi azione e ricordati che hai una data di scadenza quindi non possiamo sapere qual è la nostra singolare data di scadenza ma tutti quanti abbiamo una data di scadenza quindi e soprattutto per chi magari è giovane e però anche per chi non è per chi è meno giovane ma soprattutto per chi è giovane non credere alla balla che sicuramente qualcuno intorno a te ti sta dicendo delle lama sei giovane hai ancora tempo e tutta la vita davanti queste persone ti dicono queste cose che vita hanno che risultati hanno con le donne sono sono felicemente in una relazione hanno avuto tante donne durante la loro vita hanno una vita non so non sono in forma hanno una situazione economica rosia eccetera hanno una vita che tu vorresti o hanno una vita che magari non è esattamente la vita a cui ambisci quindi questo giusto piccolo appello quindi per chi è giovane non credere sono cazzate ok quindi gli anni dove si decide la tua vita sono gli anni dai 18 a possiamo dire i 30 però già molte volte dai 18 ai 25 ok che non significa che se hai più di 25 anni allora sei fottuto hai ovviamente il tempo di fare le cose però diventa poi più difficile più il tempo va avanti quindi se non ti metti a posto prima quindi perché poi appunto chi chi è in questo corso che ha 30 anni 40 anni 50 anni o quello che è e come ci sei arrivato da 30 anni 40 anni 50 anni che non ci sai fare con le ragazze perché hai creduto quando eri giovane ha i coglioni e ti diceva tranquillo c'è tempo hai ancora tutta quanta la vita davanti quindi io sono veramente contentissimo di quando ho 18 anni c'erano le anni di essere un emesso di impegno per passare da zero da sfigato da vergine a farmi tutta quanta la scalata a ottenere risultati con le donne a essere in grado di andare a letto con le ragazze quando voglio perché poi è un'abilità che ti porti dietro per tutta quanta la vita e ti puoi godere i frutti di questa abilità per tutta quanta la vita anche perché come vedremo adesso hai molto meno tempo di quello che pensi questo è un pezzo di carta sul quale ci sono disegnate delle tacche da zero fino a cento non so se si vede bene nel video ma tanto è irrilevante quindi immaginati che questa è la tua età da zero fino a cento anni quindi la tua vita da zero fino a cent'anni ora abbiamo un piccolo problema che l'aspettativa di vita media in Italia non è di cent'anni ma è di ottantatre anni quindi questo tempo statisticamente non c'è quindi questa diciamo che è l'aspettativa di vita media di una persona in Italia però non penso che sarai in giro a conoscere ragazze a cinquantacinque anni a sessant'anni a settant'anni eccetera si presume che magari sei anche sistemato per quell'età lì e sarai a goderti i frutti del lavoro che hai fatto negli anni precedenti quindi facciamo per comodità fino a cinquantacinque anni poi togliamo dai cinquantacinque in poi quindi questo pezzo di tempo questo pezzo di vita c'è si presume che sarai a goderti i frutti di quello che hai fatto negli anni precedenti ora altro problema non hai zero anni perché altrimenti non potresti guardare questo video quindi facciamo che tu abbia vent'anni poi facciamo che un canchino ne ha trenta quaranta eccetera quindi i primi venti anni di vita sono passati non ci sono più quindi questo è il tempo per una persona che ha vent'anni per uscire darsi a fare conosce le ragazze diventare capace e godersi poi i frutti per i frutti dei propri risultati e godersi poi una vita pagante con le donne con la propria donna ideale far sesso con tantissime ragazze dipende da quali sono i propri obiettivi crearsi una famiglia ripeto dipende da quali sono i propri obiettivi c'è un problema però che un terzo della vita viene passato a dormire sono otto ore al giorno questo è il tempo che passiamo a dormire quindi questo è il tempo per chi ha vent'anni che c'è per uscire conoscere darsi a fare e godersi poi i frutti e proprio il lavoro con le donne altro problema altre otto ore al giorno all'incirca le si passa a lavorare è un altro terzo della vita non è una fetta piccola quindi all'incirca qui questo è quello che rimane per chi ha vent'anni per chi ne ha trenta per chi ne ha quaranta il tempo che dedichi agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e per tornare a casa che magari non so è un'ora al giorno per esempio il tempo per i pasti anche lì circa un'ora al giorno se non anche di più il tempo per una passione uno sport un hobby il tempo per uscire con i propri amici quindi quanto cazzo di tempo pensi di avere? smettila di vivere con questa attitudine da immortale come se avessi tempo infinito ok? quindi se non arriva oggi il giorno in cui decidi di cambiare la tua vita quando cazzo arriva? quindi svegliati porca di una puttana e vai a parlare con quella ragazza sei pronto a essere invidiato da tutti i tuoi amici con cui esci a far serata? scopri come far sesso con nuove ragazze in discoteca a partire da stasera anche se non hai mai avuto grandi risultati e anche se non sei bello ricco o rocco stai per scoprire strategie infallibili per non sbagliare mai più un approccio e a zerare quasi totalmente i rifiuti tutto questo nel nuovo videocorso mago della discoteca ottieni accesso immediato a mago della discoteca per soli 47 euro anziché 297 fino al 18 ottobre garanzia soddisfatto rimborsato di 90 giorni trovi tutte le informazioni cliccando sul link qui sotto in descrizione grazie a tutti